ciao ma perché colloqui ti chiedono i nostri pregi e difetti dopo averli detti non mi chiamano mai prova a dire così i miei pregi sono che sono instancabile non ho pretese di nessun genere e me ne frego di avere una vita privata e se sei una donna di non ho istinto materno e voglio rimanere singola vita e per i tuoi difetti di a volte mi capita di dormire di respirare e di mangiare ma sto cercando di smettere